via vai questo è un fallo guarda lo fa pure al libro avviso si imbroglione devo resistere non voglio cadere non voglio cadere ok ha perso mancavano via solo resistenza solo resistenza ok è già perso ok si parte vai 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 c'è ancora 38 secondi ancora ancora ok 3 2 1 via ok 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 ok